Buongiorno a tutti, con il video di oggi proseguiamo nella lettura e nell'anisi del diario di Mario Roatta, un diario importante del secondo scorcio del 1943 e eramo rivasti nel primo video di questa serie affrontando il giorno dell'armistizio. Quindi ripartiamo con il 9 settembre, oggi affronteremo il 9 e il 10 settembre, due giorni particolarmente intensi, particolarmente avvincenti, se vogliamo, nella descrizione della cosiddetta fuga da Roma degli altri vertici politico-militari italiani. Ecco qua, 9 settembre, ricordiamo Roatta parla in terza persona, 9 settembre, dopo la mezzanotte comincia a raggiungere notizie diverse, atti di imperio in alta Italia, atti di osterità armata da parte dei paracautisti ad Ostia e sulla via Ostiense, movimento verso sud della terza divisione Panzergranatier. Nel giorno dell'8 settembre avevamo chiuso con Roatta, che sostanzialmente dava per vinti i tedeschi, che prefigurava una ritirata verso il nord Italia, quindi senza nessun tipo di combattimento. Le ore che stanno passando lo stanno smentendo. Quest'ultima notizia non allarma però ancora eccessivamente, perché la sera prima da parte germanica aveva preavvisato che detta divisione si sarebbe messa in movimento verso sud, per essere a portata di città vecchia e per poter più facilmente proseguire verso la campagna, nel caso di sparco nemico in quella regione. È vero che l'eccellenza Roatta aveva pregato di rimandare il movimento al mattino per evitare incidenti notturni con la divisione Ariete in posizione attorno al lago di Bracciano e di non oltrepassare la linea Tarquinia-Sutri-Nepi. Ma a parte che il movimento si svolgeva ancora molto a nord di detta linea, si poteva anche supporre che esso fosse conseguenza degli ordini originali dell'OBS non ancora modificati, dato il trambusto. Intanto della Sardegna aggiungeva notizia che la novantesima divisione chiedeva di poter passare pacificamente in Corsica, cosa che venne concessa. Verso l'una si comincia a sentire il cannone, sempre più insistente, e si apprende che la seconda divisione Paragodisti, dopo aver disarmato le parti e batterie costieri, ha attaccato alcuni caposaldi della divisione Piacenza, che hanno resistito salvo qualcuno, ed occupato il deposito carburanti di Mezzocammino, quello su cui si faceva il maggiore assegnamento per il rifornimento dei reparti motocorazzati della difesa. Altri attacchi contro le posizioni della divisione Granatieri sulla sinistra Tevere erano in corso. Si apprendeva pure che la terza divisione muoveva verso sud su tre e quattro colonne, di cui la destra un centinaio di autoblindo su Tarquina Civitavecchia, la sinistra su Narni ed una centrale su Monterosi, dove era entrata in contatto con reparti dell'Ariete. Si delinea così nettamente l'intenzione e la manovra germanica, ma queste venivano subito dopo ampiamente confermate da una intercettazione telefonica, quella già accennata a proposito della telefonata rovata a Toussaint. Roma chiedeva a Berlino se era pronto il proclama che attendevano ansiosamente, proclama di cui non si conobbe poi il testo e neppure se sia stato fatto. Berlino, due punti, siamo qui tutti al Ministero degli Esteri a prepararlo, è pronto fra poco. Roma, i paravodisti stanno disarmando gli italiani, un tale indecifrabile comandante la terza divisione è già in marcia, siamo risoluti a riuscire e riusciremo. Berlino, certamente perché sappiamo che siete bravi. Roma, Rommel ci chiede sempre la situazione, non ha a che vedere con questa faccenda. Berlino, naturalmente, nessuno pensa a mettervi agli ordini di Rommel. Parlava da Roma, secondo il bollettino delle intercettazioni, il colonnello Westphal e da Berlino un barone von degli Esteri. Con tutta probabilità però chi parlava di Roma era il generale Westphal, capo di stato maggiore dell'OBS, oppure il Toussaint. Da Berlino non poteva parlare un diplomatico, che non sarebbe stato autorizzato a trattare la questione Rommel, ma bensì qualcuno del KW, cioè l'alto comando della Wehrmacht, il barone deve essere stato colui che ha chiesto la comunicazione. Intanto i paravodisti tedeschi, passando tra i caposaldi della Piacenza, attaccano decisamente la linea dei granatieri e sembrano prossimi a San Paolo. Si odono anche scariche di mitragliatrici, però Ambrosio si è coricato. Nei momenti migliori che sia Ambrosio, che sia Badoglio, una pennichella non se la fa scappare nessuno. E Carboni, comandante la difesa, che non dorme da tre notti, è andato a casa a dormire. Anche lui dorme. L'eccellenza Roatta chiama il capo di stato maggiore del corpo d'armata moto corazzato ed ordina di portare dalla parte di San Paolo il Reco, il Montebello e due gruppi di artiglieria ariete. Si apprende in tale occasione che i due reggimenti di artiglieria dell'Ariete non sono schierati, ma semplicemente pronti a muovere nella regione della Storta, ossia molto indietro. Si ordinano che prendano posizione. Roatta invia il generale utile a sentire da Ambrosio se si debba fare applicare ovunque la memoria numero 44, quella che dava norme per il caso di colpo di mano o di ostilità di iniziativa germanica. Roatta stesso è ancora un po' esitante perché secondo le notizie sinora avute di vere ostilità non ci sono che quelle dei paracaudisti. Scusate l'8 settembre era stato mandato a fiume come comandante del corpo d'armata lì dislocato e non gli era stato detto nulla, quindi lui ha saputo la comunicazione dell'armistizio a Foligno. Ecco quindi come nel viaggio di incarico verso la sua destinazione riesce a capire quello che effettivamente è successo. Quindi è in viaggio in auto per raggiungere Ljubljana, quindi Ljubljana doveva andare, dove deve prendere il comando delle grandi unità mobile delle armate seconda e ottava. Chiede se è vero la notizia dell'armistizio e cosa deve fare. Roatta gli risponde di non passare per Bologna e di puntare su Padova passando il po' a Ferrara o a Valle. Verso l'Ore 3 si precisano le aggressioni germaniche un po' ovunque mentre si intensificano i combattimenti a cavallo della via Ostiense. Sulla destra Tevere una colonna tedesca, certo della terza divisione, attacca un caposaldo in regione magliana. Roatta fa venire Carboni e conferisce sulla situazione. Carboni, sempre più spessimista da giorni sulle possibilità di resistenza, dice che questa non può durare più di 24 ore. Munizioni, benzina, cari nemici. Intanto il diciassettesimo corpo d'armata, il cui comando è ancora inspiegabilmente a Velletri, comunica che avanguardi della quindicesima divisione germanica sono in movimento verso nord. Chiede se può fare saltare una interruzione sulla grande rotabia litoranea a sud di Terracina, il che viene autorizzato. Di fronte a quanto dice Carboni, tenuto conto della sua poca fiducia che non può non ripercuotersi sul contegno dei sottoposti, tenuta presente la minaccia della quindicesima divisione verso l'ereo 4, Roatta va da Ambrosio. Vediamo cosa si dicono i due. Incontra prima Sorice, il quale è di avviso di fare partire sua maestà. Ambrosio dice invece che sua maestà non può e non vuole lasciare Roma. Roatta risale dall'oggetto di Ambrosio all'ufficio del gabinetto. Messa a sua disposizione vi incontra all'altezza reale il principe ereditario Sorice e Puntoni. Richiesto della situazione del suo giudizio Roatta dice è chiara l'azione concentrica germanica su Roma. Non si può fare nessun assegnamento su un concorso alleato e neppure si è sicuri che gli angloamericani sbarchino subito in campagna. Roma può dunque essere sottoposta a forte e lungo attacco tedesco mentre la difesa non può resistere così a lungo. Non conviene che i tedeschi catturino in sua maestà il governo perché in questo caso sarebbe molto più agevole per loro il nominarne uno nuovo che sarebbe l'unico esistente. Vi è ancora una strada di ripiegamento sicura quella per Tivoli Pescara che però può venire tagliata da un momento all'altro. Occorre decidersi ad utilizzarla. Naturalmente in questo caso è inutile esporre la capitale agli orrori del combattimento e conviene che le truppe della difesa si ritirino anch'esse gradualmente su Tivoli. Intervenuto frattanto l'eccellenza Ambrosio le suddette proposte sono accettate anche Badoglio sopraggiunto nell'ufficio le approva. Anzi a un certo momento dice io sono il capo del governo ho la responsabilità si fa così ecco meno male che Badoglio ogni tanto si ricorda che ha delle responsabilità. Roatta vola al palazzo Caprara scrive un breve ordine per genere Carboni. Si intende preservare la capitale dalla lotta. Le forze della difesa tutte agli ordini Carboni si ritirino a scaglioni sulla regione di Tivoli. Preceda e prenda Ivi posizione uno scaglione Celere. Comando Carboni si insedia a Tivoli dove lo Stato Maggiore prenderà contatto con lui e si orienti a fare proseguire quindi il movimento verso est. Questa è una parte molto interessante perché dice sicuramente che Carboni deve attendere a Tivoli una indicazione maggiore da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e che la posizione deve essere movimento verso est. Quindi l'attacco è in base a quello che viene detto è previsto dall'Abruzzo sostanzialmente da quello che dice Roatta. Su questo c'è stata una lunga disposizione sul fatto che ci potesse stato un errore di battitura, di una svista eccetera. È stato il fatto che la situazione è talmente caotica e ci si permette il lusso anche di essere poco precisi e poco attenti a quello che si dice e si scrive. Roatta fa bruciare le carte più importanti portali da Monte Rotondo. Ordina a Ferrazzi di svegliare Gregorio e di preparargli necessaire e valigia. Gli consegna 25.000 lire e lo prega di pensare alla mamma e ad Ines. Consiglia di riunirle in casa di Olga. Si riferisce a Olga Mancini, sorella di Ines, moglie di Roatta. Viene citata anche successivamente insieme all'altra sorella Maria e al padre Angelo Antonio. Per sottrarle a ricerche eventuali germaniche e se occorre di condurle a via Illiria, a via Marche siano messe due carabinieri in borghese. Così il tempo passa rapidamente. Verso le 5.45, essendo stato deciso che i capi di Stato Maggiore seguono la sua maestà e che Roatta muova con Ambrosio, Roatta e Zanussi, con una macchina civile del Sim, si portano al ministero. Vi si apprende. Sua maestà il re, la regina, il principe e Badoglio sono partiti alle 5. Questo è stato saputo dopo, a movimento iniziato, diretti a Pescara, dove tutto il resto deve raggiungere. De Curtin è pure partito, dopo aver disposto per l'arrivo a Pescara di qualche mezzo navale. Sandali è stato incaricato di farvi affluire mezzi aerei. Sorice deve affidare i poteri in Roma a qualche ministro e partire anche lui alle 7. Però guariglia è introvabile. Ricci ha risposto che nella situazione di fatto il potere deve essere tenuto da un militare. Sorice sta tentando di entrare in contatto con altri ministri. Anche qui c'è uno scarico a barile, nel senso che chi si prende la briga di rimanere come autorità principale politica a Roma. Un militare, un civile, chissà. Alle 6 muove la carovana Ambrosio Roatta. Si tratta dapprima di due sole vetture Ambrosio Roatta, ma in seguito vi si aggiunge una vettura Sandali, una vettura Michelotti Scortegagna e una o due vetture del Comando Supremo, con ufficiali e il nucleo radio di collegamento con Eisenhower. La colonna è inquadrata da tre autoblindo della PAI, la polizia africa italiana, in quella di testa via Zanussi, a capo scoperto, esce da Roma mentre si vede il cannone verso San Paolo. Gli autobus giungono dai depositi verso il centro e ciclisti si regano al lavoro. Per maggiore sicurezza si segue l'itinerario Mentana, Parompala, Sambina, Marcellina, San Paolo dei Cavalieri. Si teme che i tedeschi abbiano già intercettato Tivoli o che la Centauro, che è in zona, abbia atteggiamento filo germanico. Tutto è però tranquillo. Si sosta passaggi a livelli nell'attesa del diretto da Roma, che circola regolarmente e riversa nelle stazioni il messaggero del mattino stesso. Verso le 9, durante una di tali soste, la colonna è sorvolata a bassa quota da una cinquantina di Juncker 52, di resti a sud-sud-est. Si fanno molte congetture per tale apparizione. A Carzoli, luogo già indicato come punto di riunione dello stato maggiore quando non si sapeva ancora di dover andare a Pescara, si lascia detto ai carabinieri reali che gli ufficiali di superesercito proseguono su Chieti. Siccome si teme che qualche colonna germanica proveniente dalla Campania punti sull'Aquila per liberare il Duce, funicolare del Gran Sasso, si chiedono notizie alle poche macchine che si incontrano in senso inverso. Tutte però dicono che regna la massima tranquillità. Prima di Tagliacozzo, le auto blindo rimangono indietro e non se ne ha più notizia. Verso le 12 si giunge a Chieti, si invia un ufficiale del Comando Supremo a Pescara alla ricerca di Sua Maestà e di Badoglio. Si prende contatto col Comando di Presidio, che non è al corrente di nulla, si bloccano tutti i telefoni civili e si va a colazione al ristorante Sole dove si mangia assai male. È anche una disgrazia, la buona cucina ormai in tempo di armistizio non se ne fa più. Si vede lì il gene Olmi, Comandante Lalegnano, lui e due suoi treni non possono proseguire verso le Puglie, essendo Sansevero e Foggia nelle mani dei tedeschi. Roatta ordina di fare scaricare i due treni e che i reparti sbarcati proteggono l'aeroporto di Pescara. Si tratta di un mezzo gruppo sommeggiato e di un battaglione a mortai. Dopo breve sonno, un'ora e mezza nella camera di Sandalli, si parte per Pescara alla ricerca di Sua Maestà, non essendo rientrato l'ufficiale inviato alla ricerca alle 12.30. All'aeroporto si vedono molte macchine e ci si ferma. Nel circolo ufficiali c'è la famiglia Reale, Badoglio e Decurten. Il re è molto contento di vedere Ambrosio, eccetera. Non voleva partire solo. Ora che avvicini i capi militari non mette in discussione la partenza dalla zona, che non è sicura perché passano treni ed autocolonne germaniche con le quali le scarse truppe locali e gli avieri mantengono un tacito modus vivendo reciproco. Interessante, eh? Quindi c'è un tacito modus vivendo reciproco. Si accende una discussione sulla via da prendere. Sandalli dice che sono pronti gli aerei per una trentina di persone, ma che se vogliono utilizzare occorre decidersi e partire. Altrimenti si arriverebbe a notte? Dove? Chi propende per l'Albania, chi per la Calabria o la Sicilia. Decurtene ha ricevuto notizie da Sansonetti che sono stati trasmessi gli ordini per l'affluenza a Pescara di una corvetta, Baionetta, da Pola e di un'altra corvetta e dell'incrocedore scipione africano da Taranto. Ma gli ordini trasmessi saranno stati ricevuti ed eseguiti? Due aeroplani sono già in volo per avvistare le suddette navi, ma poi dove andare con esse? Il re tende ad andare in territorio italiano non ancora occupato agli angloamericani. Roatta osserva che questo sarebbe il meglio, ma che con gli aerei non si è sicuri di atterrare in campo in mano italiana. Con le navi si può tentare, a patto però di avere tempestive notizie. L'importante, dopo aver lasciato la capitale, è di non essere catturati fuga durante, quindi anche qui lo stesso Roatta parla di fuga. Questo è ciò che si deve evitare a qualsiasi costo. Tutto il resto è secondario. Badoglio sostiene in pieno questo punto di vista e gli altri dopo qualche discussione lo approvano. Rientra un ricognitore che ha avvistato a nord la corvetta Baionetta, la quale giungerà a Pescara presumibilmente verso le 21. Allora si decide tenere pronti gli aerei per l'alba dell'indomani, ad ogni buon fine. Trovarsi alle 24 a Ortona a Porto per imbarcarsi sulla corvetta. In questo secondo caso dirigere su Brindisi, penetrandovi solo nel caso che non vi siano tedeschi. Suomestà, eccetera, rientrano al castello di Grecchio, duca di Bovino, dove sono alloggiati e gli altri rientrano a Chieti. Roatta dispone. Servizio di sicurezza in Chieti e al Porto di Ortona. Schieramento dei reparti della Legnano anziché a protezione del campo di aviazione a sbarramento delle rotabili a sud di Ortona e a nord di Pescara. Dalle 10 di domani il comando della Legnano con le proprie truppe e quelle locali si asserragli a inchiedi. Attraverso i carabinieri reali si apprende che non si sono visti tedeschi a Sulmona, Vezzano e Tivoli e che da Tivoli si può telefonare a Roma. Il terente colonnello Brai dalle 17.30 ha telefonato direttamente alla moglie che è nella città del Vaticano e ha saputo che tutto è calmo, però successivamente non si riesce a telefonare. Questa annotazione tra parentesi è stata aggiunta successivamente con pennino più settile e inchiostro diverso. Nel frattempo Carboni che per carità non è uno stinco di santo però che doveva ricevere degli ordini un po' più circostanziati. Sappiamo che lì la situazione è un po' caotica però diciamo che Roatta non è che si interessa troppo di quello che ha lasciato per la presunta non tanto difesa di Roma perché abbiamo visto che la difesa di Roma è stata sostanzialmente derubricata ma almeno l'assetto bellico a est di Roma per cercare in qualche modo di salvare il salvabile o quantomeno di opporsi ai tedeschi che altrimenti dilagherebbero senza nessuna ostruzione di sorta. Arrivati numerosi ufficiali da Stato Maggiore, il G. Utili partito alle 9 è stato mitragliato da aerei da caccia germanici. Alle 8.30 si cena, arriva Armellini che è partito alle 13.30 da Roma, via di Tivoli libera. A Roma ha cercato Sorici ma non l'ha trovato, Stato Maggiore deserto. Il capo di Stato Maggiore di Carboni ha detto che alle ore 7 Carboni era in borghese ed è sparito lasciandogli semplicemente in mano l'ordine dato da Roatta per il ripiegamento senza altre istruzioni che tra l'altro sempre ripetiamo Carboni non è che ne avesse tante altre. Dobbiamo difendere Carboni difendiamolo pure però ci sta. A Tivoli nessuno ha visto Carboni. La Centauro era schierata tra Tivoli e Roma. Faccia la capitale con Calvi in linea. Faccia la capitale. Abbiamo detto che invece doveva essere faccia est. Vabbè comunque. Nel primo viaggio verso Tivoli Armellini vi era andato una prima volta per abboccarsi con Carboni. Una colonna ariete muoveva verso Tivoli. Probabilmente si trattava dello scaglione celere che doveva schierarsi all'altezza di Tivoli stesso. Nel secondo viaggio la stessa colonna tornava indietro verso Roma e forze della Centauro procedevano pure su Roma. Probabilmente qualcuno aveva nel frattempo preso il comando ed ordinato il concentramento di tutte le forze nella capitale ad immediate vicinanze. Alle 21.15 partenza di tutte le vetture per Francavilla-Ortona. Sulla Litorania si incontrano piccole autocolonne germaniche in movimento verso nord. Quindi di tedeschi ce ne sono ma nessuna unità tedesca sembra essere particolarmente interessata a tutti questi papaveri che appunto girano da quelle parti, compreso il re. Alle 23 si arriva sul lungomolo di Ortona e le vetture si affiancano al mare. La corvetta fa segnali dal largo. Si attende sotto a una bella luna. 10 settembre. Poco prima delle 24 giunge la famiglia reale e Badoglio. Dopo una certa attesa e il carico dei bagagli, una prima infornata si carica su un motovelliero. Si sono fatte due liste. Nella prima sono compresi oltre alla famiglia reale, seguite Badoglio, i generali e qualche altro. Nella seconda tutti gli altri. Imbarco sulla corvetta. Si chiamava in origine partigiana ma essendo di sede a Pola la gente del posto diceva, riferendosi ai ribelli dell'Istria, abbiamo già anche la marina partigiana. Perciò la ribattezzarono Baionetta. La corvetta di 600 tonnellate circa è molto moderna ed è incaricata della caccia ai sommergibili. Al momento in cui arriva il secondo motovelliero, Decourtain dichiara che non può consentire di caricare più gente di quanto lo permettano i mezzi di salvataggio. Caricano perciò i generali, meno armellini, non si capisce come, gli ufficiali sotto ufficiale del comando supremo addetti alla radio e il tenente Scortegagna addetto a Zanussi. A tutti gli altri si annuncia che giungerà la seconda corvetta alla quale sarà a loro disposizione. La corvetta in parola è incrociata nella notte e è stata tortona ma non vi ha trovato nessuno. Probabilmente gli ufficiali saranno orientati a Chiedi oppure avranno tentato di tornare a Roma. Così verso l'una si partì. Roatta, Zanussi, Michelotti e Scortegagna avevano deciso che se non si riusciva a partire in qualche modo prima del giorno si sarebbero dati alla macchia. Avevano anche preveduto di rifugiarsi presso famiglie amiche di Grotta a Mare o di Giulianova. Mentre la famiglia reale e qualche altro trovano posto nelle cabine, cuccette, nel piccolo quadrato, l'eccellenza Roatta dorme in coperta sopra una sedia a sdraio ravvolto in un plaid. Dorme bene, svegliato ogni tanto dall'alto parlante di bordo. Attenzione, attenzione, seconda muta a rilevare, ripeto, seconda muta a rilevare. Sveglia le 6.30 in vista del promontorio carganico vieste. Colazione con un pezzo di pane offerto da Acquarone. Giungono man mano notizie per lo più della stazione radio della Marina. Germanici occupano Genova, Trieste, Pola, Metoni, Durazzo, Valona e il porto di Bari. Interrotte le trattative tra il maresciallo Caviglia e il comando delle truppe germaniche situate intorno a Roma. Proclamazione di un governo fascista in qualche località imprecisata. Circa Caviglia giunge un suo radio in cui nell'assenza di Badoglio chiede a Sua Maestà i poteri temporanei in Roma. Sua Maestà risponde affermativamente. Si fanno molte congetture sulle trattative di Roma. Colazione con scatolette di carne e formaggio. Brindisi segnala che tutto vi è normale. Avvenuto sbarca a Taranto di una divisione inglese. Si tratta poi di 4.000 anglo-americani non più efficienti che i nostri costieri. Verso le 13 un velivolo germanico incrocia la corvetta accompagnata all'alba dallo scipione africano. Poco dopo l'aero torna indietro e si dirige sulle navi. Perciò allarme aereo. Tutti i si rifugiano al coperto. La regina che vestita di nero è molto visibile e pregata di entrare anche lei in un locale. L'aereo non attacca. Più tardi si è saputo che aveva richiesto intervento di altri apparecchi. Poco dopo le 14 si entra nell'avamposto. Arriva a bordo il comandante la piazza marittima. Riferisce che i tedeschi non sono per nulla a Brindisi né a Taranto. Da Bari sono stati scacciati. Un certo numero di paragodisti nella zona Matera-Altamura. Non vi è pericolo a Brindisi. Si decide pertanto di sbarcare subito. La famiglia reale va alla palazzina dell'ammiraglio. Quando sbarca a Badoglio molti marinai l'acclamano. Egli dice abbiamo fatto l'armistizio ma se ora dovessimo andare contro i tedeschi cosa direste? Acclamazioni frenetiche. Molti marinai hanno le lacrime agli occhi. Anche noi abbiamo le lacrime agli occhi. Ci si stalla rapidamente. Badoglio ed Ambrosio al comando marina. Stato maggiore all'albergo internazionale che si requisisce. Ci sono anche gli alloggi. De Courten su richiesta mette a disposizione l'abbazia subito riconosciuta dall'eccellenza Roat all'ingresso del porto. Ma manca ormai di biancheria eccetera. Per cui passa ad uso di alloggio di ufficiali non dello Stato maggiore. Così Dio ha voluto che si raggiungesse quanto desiderato ossia una sede italiana libera da tedeschi e da angloamericani. Si prende subito contatto col comando della settima armata e del nono corpo d'armata. Roat conferisce con Arisio e dispose per l'immediato rinforzo della piazza di Brindisi con truppe della Legnano. Il comando supremo si mette subito in relazione con il comando alleato a mezzo di solita radio. Giungono istigazioni a combattere i tedeschi. Altri appelli del genere sono radio emessi da Roosevelt e Churchill. Cena al circolo di Marina. Dopo, malgrado caschi dal sonno, Roat deve andare a conferire col principe nel giardino dell'ammiragliato. Molti ufficiali vi siedono e passeggiano con signore e signorine. Sembra, dice Roat, di vedere una scena della Butterfly. Alle 11, quando l'eccellenza Roat giunge all'hotel, non trova le chiave della sua camera, numero 10, dove dopo ricerche varie e tentativi di forzamento si decide di dormire in un'altra camera, la numero 9. Nel pomeriggio due allarmi aerei apparecchi nostri. L'aviazione germanica ha attaccato la flotta italiana in movimento su Bona, affondando la Roma e danneggiando l'Italia. I tedeschi hanno occupato pure la Maddalena. Verso le 17, mentre scriveva nell'ufficio del capo di stato maggiore della piazza, un ufficiale di Marina riceve un telegramma dal Ministero, in cui si dice che navi germaniche sono entrate nel porto di Brindisi e l'hanno occupata. Evitarvi l'approdo. Un aviatore, Ruspoli, partito da Guidonia alle 17.30, comunica che a Roma tutto è calmo e che gli ufficiali dell'aeroporto vanno e vengono dalla capitale. Le truppe germaniche sono alla periferia. Vogliamo leggere anche l'11? Leggemo anche l'11. Guarda, mi voglio rovinare. Dormito bene e non percepiti due allarmi aerei con sparatorie. Ore 9, convegno da sua maestà. Si legge un invito a Eisenhower a cooperare e si decide che sua maestà e Badoglio indirizzeranno ognuno un proclama agli italiani. Notizie varie fanno pensare che truppe tedesche dalla Calabria puntino verso la Puglia, divisioni 29esima e 26esima. Esse potrebbero avere permissione di occupare le piazze di Brindisi e Taranto e la penisola Salentina, oppure quella di occupare Bari per imbarcarvisi per i Balcani. In conseguenza si ordina che il comando del corpo d'armata nono e le divisioni Legnano e Piceno si concentrino nella piazza di Brindisi. Verso l'11.30 ci si riunisce per leggere i proclami di sua maestà e di Badoglio che, dopo una discussione abbastanza lunga, vengono varati. Sua maestà li approva, diramazione attraverso radio Bari e con manifestini lanciati daerei. Si è dubitosi circa la portata di radio Bari, ma si constata poi che il radio Palermo e altre radio straniere hanno captato e ritrasmettono. Si comincia a mangiare alla mensa dei sommergibilisti. Nel pomeriggio rientra l'eccellenza Rossi, reduce da Tunisi. Eisenhower ha ammesso che si sono commessi errori circa il momento dell'armistizio eccetera. Ha detto forse abbiamo sbagliato. Lo dice Eisenhower. Il solito aviatore Ruspoli, stato anche oggi a Guidonia, riferisce che i tedeschi sono entrati nel campo. Alcuni nostri apparecchi che vieno rimasti hanno fatto appena a tempo a decollare. Egli ha telefonato al Ministero dell'Aeronautica ma chi rispondeva ha detto che non poteva continuare perché un picchetto germanico stava entrando nel Ministero. Se ne deve arguire che Roma è ormai occupata. Dalla radio si apprende che si lotta a Torino e Milano col concorso della popolazione. Nell'isola di Rodi siamo ormai alla difesa della città. Epiteti di tutti i generi sono lanciati dalle radio germaniche ed italiane a suo servizio contro il re traditore eccetera. Compre di biancheria eccetera in città. Quindi abbiamo dato un quadro abbastanza circostanziato, abbastanza interessato e informato dei fatti nella lunga e perigliosa attività di fuga, potremmo dire così, da Roma a Brindisi che ci offre anche un interessante spaccato dei vari punti di vista che si sono avvicendati nella protagonisti che in qualche modo si rincorrevano, che non sapevano cosa faceva l'altro, le varie opportunità, cercare in qualche modo anche di trovare una scappatoia che sembra poi tra l'altro particolarmente facile rispetto a tutti i pericoli che invece uno ci si potrebbe aspettare, attraversare l'Appennino tra il Lazio e l'Abruzzo, riuscire ad arrivare a Pescara, riuscire a trovare in qualche modo dei mezzi che possano portare in un porto amico e in tutto ciò nonostante vi sia la costante presenza malcelata dei tedeschi e si riesca in qualche modo a arrivare sani e salvi tutti senza ulteriori preoccupazioni. Questo ovviamente ha dato adito a tantissime congetture e non è il caso qui di riprendere le varie tesi di Zangrandi sul presunto accordo che vi può essere stato tra alti vertici italiani e il comando di Kessering, di Frascati, ma in qualche modo sappiamo come l'ha detto sostanzialmente anche Roatta, vi è stato un modus vivendi reciproco, tacito che in qualche modo tende a spiegare un po' la dinamica, nel senso che non interessava a nessuno, comunque in quel momento non interessava ai tedeschi riuscire a ciuffare tutta la carovana degli alti vertici militari purché si togliessero dai piedi, visto che è considerato che l'interesse principale era quello di riuscire a ottenere Roma senza particolari spargimenti di sangue e allo stesso tempo riuscire a mettere le mani su Mussolini e sostanzialmente per Kessering fu un successo straordinario che probabilmente neanche lui si sarebbe immaginato il giorno dell'8 settembre. Detto questo, poi nei prossimi giorni proseguiremo con l'analisi di altri succulenti giornate, pagine di Roatta, come alzano vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!